Rassegnazione e arrabbiatura, quella di chi in questo ultimo anno ha dovuto subire limitazioni continue e che ora si vede costretto a pensare di dover chiudere il proprio locale se le cose non cambieranno. Le marche da oggi, dopo un mese in area gialla, tornano in zona arancione. Una decisione è quella del governo che ha riportato a terra gli umori di baristi e ristoratori, stremati dall'alternarsi di aperture e chiusure, ormai da mesi, senza nessuna prospettiva per il futuro. Bar e ristoranti da oggi, per una settimana almeno, fino al prossimo verdetto che sarà emesso dal Ministero della Salute, come di consueto venerdì, possono rimanere aperti solo per l'asporto e per le consegne a domicilio. Niente più pranzi fuori, né caffè al bancone o al tavolino e la rabbia monta. Io sono incazzato nero. Poi c'è una cosa che mi dà molto fastidio, noi siamo chiusi, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo mettere più di quattro persone per tavolo, spesso e volentieri due per tavolo. Quando invece in giro ci sono assembramenti in vari posti dove fanno la movida e purtroppo loro continuano a fare quello che gli pare, anche molti miei colleghi continuano a fare quello che gli pare e noi dobbiamo stare attenti. Deluso, rassegnato e ho finito le forze. Adesso io aspetto, dal primo di marzo, ripeto, mi sono dato due mesi e voglio vedere cosa succede, se cambia qualcosa, bene. Se no, una cosa è certa, se esco, esco dalla porta principale, non esco dal retro. Chi deve pagare, paga. Una brutta situazione, sottolineano i baristi, con un calo del lavoro impressionante. Il lavoro è diminuito per il semplice motivo che la gente preferisce bere un caffè a casa al posto che berlo al freddo fuori in mezzo alla strada, perciò è stato un calo del lavoro anomalo per noi. Si lavora male, poi il cliente deve andare fuori, è brutto, brutta situazione. Per noi già il giallo è meglio se dobbiamo trovare un compromesso. Lei è costretto a prendere la brioche e andare via, non può fare colazione seduto. Non ne possiamo più, direi, no? Però purtroppo viene a far così? Boh, non si sa. Speriamo che serva a qualcosa. È la terza volta da quando è stato introdotto il sistema dei colori che le marche finiscono in zona arancione. Era successo per due settimane a metà novembre e poi a metà gennaio, con la differenza che questa volta il cambio di colore è scattato di lunedì e non di domenica, salvando così il fine settimana per baristi e ristoratori, due delle categorie più colpite dall'introduzione della zona arancione, che comporta anche il divieto di spostamento al di fuori del proprio comune di residenza, se non per comprovate esigenze di lavoro o di salute.